Sì, è vero, io sono contento che ho fatto la prima partita qua a San Siro con questa maglia. Abbiamo vinto, poi il gioco lo devo migliorare ancora tanto, ma ci lavoriamo per migliorare il nostro gioco. È tutto veloce, come ho detto, tutto veloce. Ci è stato tutto da ieri mattina e poi oggi subito partita. Sono contento e adesso vado a nazionale, poi torno e inizio a lavorare con la squadra, a conoscere un po' i ragazzi, un po' di più, che poi diventa un pochino più facile. Andiamo bene, è andato tutto bene, sono tutti bravi i ragazzi, poi qualcuno ho già conosciuto prima, allora era più facile per me. Senti, la prossima sarà contro l'Inter, il derby. Tu ne hai vissuti tanti a Genova, che derby ti aspetti qua a Milano? Ho visto questo derby solo in televisione, allora non so, sicuro, poi tutti i derby sono nervosi, è una diversa partita come l'altra. Ho giocato anche in Praga, derby, allora è tutto nervoso, vogliamo vincere tutti questo derby, allora sicuro non è facile.